Tantissimi impegni per le varie squadre della Icaro Basket Officina Raneli. I principali campionati dei team giovanili per la compagine Saccenze sono terminati e si sono tutti chiusi tra il sesto e l'ottavo posto. Le immagini che state vedendo si riferiscono ad un match del campionato esordienti tenuto sia da Grigento. Soddisfatti i coach Giovanni Monastero e Sara Vignanello. Stagione ancora in corso invece per i bambini del Sodalizio. Domani pomeriggio per la categoria Aquilotti a Mazzara del Vallo Officina Raneli sarà impegnata in un torneo che si terrà in piazza alla presenza di diverse squadre del comprensorio. Domenica mattina invece al Palamoncati di Grigento per la categoria Scoiattoli altro torneo con in campo la Icaro Basket, l'Arca di Noe di Agrigento e la Cestistica Licata. Icaro che ha partecipato anche ai nuovi tornei di pallacanestro 3 contro 3, nuova disciplina olimpica. Il team di Monastero ha già preso parte alle gare di livello provinciale piazzandosi al secondo posto ed ottenendo così la qualificazione per le finali regionali che si disputeranno domenica mattina a Siracusa. La squadra 3 per 3 è composta da Antonino Di Stefano, Dario Cacciatore, Riccardo Gallo e dal siriano Shibara Caramma. Altri appuntamenti infine per domenica 27 maggio. A Sciacca in piazza Scandaliato saranno montati due piccoli campi di basket per un allenamento dimostrativo e per permettere a chi volesse di avvicinarsi a questo sport. Sempre domenica 27 il Sodalizio Saccense prenderà parte alla manifestazione denominata Basket Pink. Si tratta di Basket Femminile, un torneo che si disputerà al Palavirtus di Trapani per i nati dal 2007 al 2011. Entro giugno comunque giungeranno al termine anche i tornei per le categorie Pulcini, Scaoiattoli e Aquilotti. E passiamo alle arti marziali. Il Saccense Michele Catanzaro nel weekend parteciperà al sesto campionato nazionale master nella disciplina Karate-Katà. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Quigliano in Liguria ed è promossa dalla federazione Figilkamma. Sempre domenica grande appuntamento a Sciacca con il Giudo Internazionale nell'ambito di una manifestazione promossa dal maestro Pippo Piazza con il patrocino del Comune. Al pallone tenda Nino Roccazzella della Perriera si svolgerà il settimo Meeting Internazionale di Judo, denominato Torneo dell'amicizia. A sfidarsi in pedana tre sodalizi, la Karate-Judo Club di Sciacca, la Idla di Palermo e la squadra tedesca Zentrum di Ettlingen. Il torneo comincerà alle 10.